Attivissimi nelle scuole i carabinieri forestali che oltre alle loro tradizionali attività sono impegnati molto con le nuove generazioni per insegnare sin da piccoli il valore del rispetto dell'ambiente e delle biodiversità per creare poi adulti consapevoli e così si inquadra la presenza dei carabinieri forestali nella giornata di inaugurazione dell'anno scolastico con le loro attività e le loro eccellenze in mostra per i ragazzi. Tenente Colonnello, quali sono le mansioni di cui si occupa il vostro reparto? Il nostro reparto si chiama Reparto Carabinieri per la Biodiversità dell'Aquila e una delle mission istituzionali è l'educazione ambientale che svolgiamo nelle scuole e in particolare infatti oggi siamo qui proprio perché è importante per noi andare nelle scuole e insegnare ai bambini ad essere dei cittadini migliori, quindi sensibilizzarli sulle tematiche dell'ambiente quindi cercare di infondergli quella che è la conoscenza e la consapevolezza della difesa della natura proprio per insegnargli il rispetto e la tutela della stessa. Per cui è importante soltanto con la conoscenza della biodiversità e di ciò che ci circonda possiamo insegnargli a tutelarla. Grazie. Grazie.